Continua a Belforte di Monfalcone l'esplode dei supereroi dei fumetti con Super Heroes giornate dedicate ai fumetti e al mondo dei manga con animazioni e spettacoli per grandi e piccini. In programma eventi cosplay, mostra dei più famosi supereroi in dimensioni reali in spettacolari ricostruzioni di set cinematografici, tra scenografie, musiche ed effetti speciali, esposizione di esoscheletri giganti con workshop sulla costruzione di loro componenti ed accessori in collaborazione con Prisma Tech Cosplay e la grande mostra Lego Star Wars, un'esposizione custodita di 18 pezzi Lego ispirati alla celebra saga cinematografica di Star Wars, rappresentanti le iconiche astronavi con l'aggiunta di personaggi Lego a tema. Sabato e domenica sono state le giornate dedicate soprattutto agli supereroi, in particolare si sono potuti incontrare dal vivo Iron Man Doctor Strange e le gemme dell'infinito e i più affascinanti personaggi femminili del mondo Marvel, DC Comic, Zatanna, Harley Quinn, Miss Marvel, Black Cat, Wonder Woman, Hela, Nebula e tante altre. Strepitoso è lo spettacolo acrobatico con Spider-Man, interpretato dallo stand performer Martial Arts Marco Noctis e ancora workshop makeup e accessori cosplay, Red Skull e Iron Man Mark 44 Hulkbuster, show con esoscheletro gigante animato ed effetti special.